Amici, fantallenatori, bentornati da Carmi Special Allora, allora, siete carichi per gli attaccanti di slot che abbiamo avuto quest'anno al fantacalcio e come si è distribuito il loro rendimento Ovviamente, vi ricordo come sempre di lasciare un bel like qua sotto di iscrivervi ovviamente, qualora non lo foste ancora e di dirmi la vostra, anzi, mettete gli slot dei vostri attaccanti fatemi capire come avete costruito il vostro attacco e vediamo poi come hanno reso quegli slot Ok, ci state? Dai, proviamo Andiamo a vedere le slide che vi ho preparato per oggi per quanto riguarda gli slot degli attacchi Il file di analisi degli slot, se riesco, lo carico anche nella sezione news di tipi Vediamo se ci riesco, lo metto ci domani cioè il file dove vado ad estrapolare magari tutti questi grafici Vediamo, ci penso, anche perché non è che abbia una grande utilità per voi serviva semplicemente per raccogliere dati per questo tipo di contenuti quindi non so se effettivamente caricarlo fatemelo sapere se lo volete o meno Andiamo appunto a vedere le slide per quanto riguarda gli attaccanti Partiamo dai top, dei top pronosticati Vediamo come hanno reso Il 63% dei top, dei giocatori che erano classificati come top Vi ricordo che avevo scelto 8 nomi Perché 8? Perché così andiamo a dare uno slot per diciamo partecipanti in una Lega 8 che è la Lega diciamo classica Ok, se vogliamo poi quella 10 me diverte ancora di più però ecco, ho messo 8 top anche perché solitamente sono 7-8 i nomi che effettivamente poi hanno una fanta media molto alta da poter essere considerata come top Il 63% come detto ha confermato comunque il rendimento da top il restante 38% ha reso come semi top quindi un flop diciamo contenuto e sono Abram che in realtà in alcuni momenti è stato anche decisivo no? Ha fanta calcio però anche lui ha avuto diverse giornate di stop Zeko che era partito bene poi si è fermato un po' troppo Muriel che invece era partito malissimo anche a causa un po' infortuni e poi si è rifatto nel finale e mentre tutti gli altri osi man Vlaovic, Martinez anche se con alti e bassi soprattutto Ciro e Immobile Vlaovic su tutti hanno reso come top Zapata purtroppo è anche un po' osi man con meno partita a disposizione quindi il loro impatto chiaramente è stato inferiore andiamo a vedere quali sono stati i top reali perché per ogni flop magari c'è qualcuno che rende di più ci sono stati 7 top il 70% il 71% veniva comunque dai top abbiamo visto molti hanno confermato gli altri due erano un semi top ovvero chiaramente Berardi con 8.3 di fantamedia vi ricordo che queste medie e fantamedia sono quelle calcolate con l'algoritmo ragazzi ok con Alvin perché così non vado a considerare eventuali voti un po' emozionali di pagellisti ed è tutto un po' più coerente come calcolo ok? e l'altro era la scommessa parliamo di Mertens che era appunto messo nelle scommesse perché non titolare ma possibile magari crack e così infatti è stato anche se ha giocato 24 partite quindi non lo stesso impatto magari appunto degli altri ok? andiamo invece a vedere gli altri appunto gli altri reparti quindi questi erano i top 5 giocatori su 7 che hanno avuto una fantamedia quindi superiore al 7,75 considerato come fantamedia minima per essere considerato top c'è un giocatore che ci si è avvicinato adesso andremo a vedere di chi si tratta però ecco gli altri la maggior parte 5 su 7 come detto erano appunto nei top andiamo a vedere ovviamente diversifichiamo bisogna sempre diversificare ma ne parleremo nelle conclusioni perché una cosa appunto è stato Cire Immobile o Vlaus e un'altra cosa sono stati i vari Zapata o Semen ok? Martinez e così via quindi occhio a questo discorso ne parleremo più avanti poi andiamo su i semi top pronosticati mentre i top sono andati alla grande devo dire ok? sia per quelli che hanno confermato ma anche per quelli che hanno leggermente deluso per i semi top il discorso è stato diverso molti hanno flopato ok? alta percentuale di flop alcuni flop sono stati contenuti nel senso che sono stati in seconda fascia e tra l'altro con rendimento un po' particolare vediamo chi sono parlo innanzitutto di Di Bala che purtroppo non ha giocato tutte le partite e comunque è stato un po' discontinuo anche lui nel senso che non ha portato chissà quali bottini di bonus Giroud che invece di gol comunque ne ha fatti però magari non perfettamente distribuiti non super costante ok? anche lui 29 partite giocate Ibrahimović ha confermato la sua fantamedia prevista da semi top ma solo 18 partite giocate non è stato particolarmente utile per metà campionato diciamo anche più di metà se vogliamo e mentre appunto insignia il problema dei calci di rigore perché altrimenti sarebbe stato uno dei migliori semi top addirittura forse come top come fantamedia senza quei rigori sbagliati quindi un po' viziato da questo motivo mentre Gio Pedro era partito bene come ottimo semi top invece poi ha deluso nel giornale di ritorno Morata invece è sempre stato un po' discontinuo per questo è stato uno dei flop di questa fascia andiamo a vedere invece chi si è comportato abbastanza bene da ricadere in questa fascia cioè dal 7,50 al 7,75 di fantamedia ok? non dico che per forza dovevano fare 15 gol ma super giù hanno fatto quel bottino ok? di bonus da poter portare quella fantamedia e parliamo soprattutto di statistiche di percentuali come abbiamo visto molti semi top hanno re o meglio molti top poi o meglio i pochi top che hanno deluso poi hanno reso effettivamente come semi top quindi la maggior parte di semi top reali viene da quella fascia ma molti hanno anche sorpreso quindi alcune scommesse alcune di terza fascia hanno reso poi come semi top e sono innanzitutto Raffaele Au ragazzi devastante tra le scommesse consigliate vi avevo anche fatto un video particolare sui possibili crack e c'era appunto Leau perché avevo notato nelle prime giornate un cambiamento nel suo comportamento e nel suo rendimento poi chiaramente Caprari anche lui poi abbiamo Deleufeu che sono entrambi erano entrambi in terza fascia come abbiamo detto anche i tre top che hanno deluso Ibrahim che ha confermato la fascia ma con poche presenze e Scamacca anche lui come Leau nelle scommesse quindi i top che hanno deluso e terza fascia scommesse che magari sorprendono che diventano i crack della stagione sono loro Leau Caprari Deleufeu Scamacca vediamoci qualcun altro magari in seconda fascia e a proposito di seconda fascia vediamo quali erano quelle pronosticate questa è stata la fascia più deludente quindi altissima percentuale di flop ma tutti per motivi differenti andiamoli a vedere come vediamo c'è solo una conferma neanche qualcuno che è esploso una conferma che è quella di Arnautovic se vi ricordate che è stato quasi da semi top ma comunque perché si è ripreso nella seconda parte di stagione ok nel giorno d'andata non ha fatto faville anche per un po' di sfortuna bisogna dire che ha colpito tanti Lenny in questa sua stagione prima stagione in serie A vi avevo detto che avrebbe raggiunto la doppia cifra molti magari ve lo sconsigliavano non so per quale motivo perché comunque il valore del giocatore c'era quindi andiamo a vedere appunto questa fascia a parte come detto Arnautovic che ha confermato il suo rendimento gli altri hanno deluso tutti soprattutto Mancuso che ha perso poi il posto non è stato più titolare poi Politano poi è partito pure Mancuso Politano invece come motivazione alla non titolarità che gli toglieva magari minuti a disposizione idem Quagliarella ma la causa è stata anche l'arrivo poi di Caputo se vogliamo Caputo come motivo ha il discorso della Sampdoria che non è stata granché quest'anno però lui e Raspadori perlomeno hanno raggiunto la doppia cifra quindi il loro bottino di gol l'hanno fatto quindi si possono anche considerare come seconda fascia quasi però ecco in realtà il loro bottino deve essere un po' migliore soprattutto la loro costanza e invece non è stato così e quindi si abbassa il loro rendimento a terza fascia poi Rebic lo abbiamo visto anche lui non titolare ha giocato molto poco 22 partite e neanche da titolare quindi quasi tutti i flop anche Lozano Lozano lui si è magnato una marea di occasioni ragazzi quindi come vedete tutti per motivi differenti hanno flopato è un po' particolare questa cosa bisognerà studiare un pochettino meglio forse il prossimo anno e qui mi ci metto chiaramente io di mezzo per quanto riguarda i giocatori che facilmente potrebbero arrivare alla seconda cifra cioè alla doppia cifra ok vedremo un po' questo studio come cambierà andiamo avanti per vedere le seconde fasce reali cioè quali sono stati poi quei giocatori che effettivamente hanno portato una fantamedia superiore a quella del set ok e che quindi hanno reso come seconda fascia innanzitutto c'erano quei semi top che abbiamo visto deludere i vari insignia i vari cirù e compagnia bella poi ci sono tutti quelli di terza fascia outsider che hanno sorpreso quindi ci sono tantissimi anche giocatori che non partivano nemmeno titolare inizio anno vedi pinamonti e giocatori di questo genere che poi hanno sorpreso quindi poi ne parleremo un pochettino anche su questo aspetto sull'asta di riparazione eventualmente per quanto riguarda quindi questa fascia è un po' distribuita ma paradossalmente non ci sono quelli di seconda fascia ci sono tutti quelli che o sorprendono o deludono e si ritrovano poi come terzi slot quindi i terzi slot che utilizzeremo magari nella parte finale del campionato nella parte centrale sono giocatori che o ci stanno un po' deludendo o che magari abbiamo preso a poco e poi hanno sorpreso oppure giocatori che andremo a prendere delle asse di riparazione vedi magari Pinamonti a volte Beto appunto questo tipo di giocatori gabbiadini che purtroppo poi si è infortunato ok quindi particolare questa statistica andiamo a vedere invece la terza fascia quella forse più intrigante da studiare perché perché vediamo come ci siano tanti giocatori che comunque hanno avuto una fantamedia utile nonostante la terza fascia sia quella un po' di copertura dove andiamo a prendere i nostri panchinari qualcuno da alternare il nostro terzo slot e altri semplicemente per coprirci i buchi e vediamo come appunto il 53% comunque è stata avuta una fantamedia utile e addirittura uno su tre ha overperformato andiamo a vedere di chi si tratta parliamo di Bonazzoli che come fantamedia rientra in seconda fascia anche se non è stato facile utilizzarlo Deolofeo e Caprari abbiamo visto addirittura nei semi top Gonzales anche lui rientra in seconda fascia anche se lui era appunto indeciso era a tre milioni mi pare di terza fascia e infatti l'ho preso in pieno Pedro altro nome interessante purtroppo diciamo con qualche infortunio si è limitato un pochettino però comunque ha reso abbastanza bene e chiaramente Simeone lui quasi quasi rientrava addirittura nei diciamo in terza fascia è rientrato in pieno in seconda fascia ma era piazzato anche lui in terza fascia perché era arrivato allora allora nel Verona poteva essere appunto titolare ma non sapevamo che tipo di rendimento avrebbe avuto ed è stato un colpo clamoroso alcuni hanno confermato vedi Barro vedi un po' vabbè Caicedo non possiamo più considerarlo Verde e Henry altro giocatore consigliato tra quelli di copertura ed ha confermato quella fascia molti altri hanno deluso vedi Boga vedi Cutrone vedi appunto anche vabbè Lasagna già sì tutti questi questi sono stati più la copertura quindi hanno deluso a livello di fantamedia se vogliamo ma la loro copertura molti l'hanno comunque portata solo quanti sono 5-6 giocatori hanno avuto poche partite quindi devo dire che la terza fascia era costruita molto bene devo dire che è stata costruita molto molto bene andiamo a vedere la terza fascia reale per vedere quali giocatori magari che tipologia di giocatori ci sono rientrati in questa fascia cioè tra il 6 e mezzo e il 7 per farvi capire che tipo di fantamedia e possiamo vedere che molti giocatori non sono titolarissimi oltre che essere comunque una fascia sì molto ricca ma molti sono scommessi alcuni outsider cioè giocatori che non c'erano all'inizio ma la particolarità è che tanti giocatori sono jolly cioè giocatori non titolari che giocano quindi molte volte da subentrati o che hanno avuto un limitato utilizzo quest'anno al fantacalcio e quindi che poi trattano magari quei bonus sporadici ma che non hanno quella potenza al fantacalcio da poterti decidere e soprattutto che non sono magari facili da schierare a parte alcuni tipo punto giopedro magari raspadori caputo questi nomi che hanno reso poi da terza fascia magari perché hanno deluso perché erano più importanti ma molti vedi Correa ok Bregalo ecco non sempre erano facili da schierare questo tipo di giocatori success come ne è bella va bene andiamo a vedere adesso le scommesse una fascia molto particolare io vi dico sempre di al massimo puntarne uno ma siccome io sono uno che l'attacco lo costruisce solitamente molto forte nelle strategie che vi consiglia non è detto che poi vado a prendere le scommesse se non una magari delle migliori e qui possiamo andare a vedere nelle statistiche che metà fantamedia orribile cioè sono delle pippe clamorose che non servono al fantacalcio l'altra metà però hanno una fantamedia utile e il 15% addirittura sono dei crack parliamo di parliamo di leao e anche di scamacca e anche mertens che addirittura è quello con la fantamedia più alta però con meno utilizzo rispetto a leao quindi per certi versi preferisco aver avuto quest'anno appunto leao che è mertens guarda caso avevo preso entrambi anzi avevo preso prima mertens per poi scambiarlo con leao quindi ho fatto alla grande adesso scambio comunque comunque parliamoci chiaro qua voglio sottolineare una cosa che il 60 65% quasi 70% non è titolare cioè non sono giocatori utili carles peres forte moro piccole questi erano proprio gli ultimi della fascia magari cancellieri colli questi erano proprio per la lega a 10 12 magari potevano essere l'ultimo slot però la maggior parte ragazzi non sono titolari non sono titolari anche schomurdow quindi veramente sono pochi giocatori buoni qui o prendiamo la miglior scommessa oppure ci fiondiamo sulla terza fascia perché lì sono titolari almeno in un fan da calcio complicato ci coprono e ci sono più utili ok quindi attenzione a quando etichettiamo i giocatori come scommesse ok lo stesso farò io vi consiglio i migliori gli altri vi dico ragazzi questi si scommessini ma così come ho fatto per ora non vi aspettate chissà che cosa come detto è una gran percentuale non solo non è titolare ma non ha una fanta media utile va bene detto ciò in conclusione andiamo a vedere come facciamo un piccolo recap i top sono comunque tra i migliori per fanta media si abbiamo visto questo vediamo poi facciamo un confronto anche con le altre stagioni quindi queste conclusioni che traiamo ragazzi sono per questa stagione ci devono insegnare cose per il futuro ma non dobbiamo darle come legge dobbiamo utilizzarle come strumento in più poi differenziare attenzione appunto differenziare però i top per non pagarli similmente cioè non devo pagare immobile cioè abram o che c'era o zeco e compagnia bella quanto immobile o comunque con un prezzo vicino cioè la fanta media sarà distante dobbiamo anche ipotizzare anche una spesa e fare una spesa differente ok per quel discorso quindi per questo vi dico attenzione alla differenziazione di prezzo poi semi top fascia a volte sopravvalutata mi sono dimenticato a chiudere virgolette perché perché in semi top spesso ci capiranno giocatori o fantasisti ok o un po' fragili oppure magari rigoristi che non sono diciamo molto cinici oppure giocatori un po' fragili ma con un gran potenziale abbiamo visto appunto Ibraimovic Belotti quindi insomma attenzione a questa fascia poi in seconda fascia invece andare sul titolaristimo noto perché perché abbiamo visto come magari Arnatovic che sapevamo che nel Bologna era lui che doveva giocare titolare e stavamo tranquilli in altri casi invece vedi il discorso Caputo Quagliarella Mancuso che poi è arrivato Piramonti queste situazioni o anche lo Zanopolitano hanno limitato molto il loro rendimento quindi se dobbiamo fare una seconda fascia andiamo poi su quello che diciamo questo è sicuro titolare l'hanno preso per fargli fare il titolare oppure titolare da 2-3 prendiamo lui poi in terza fascia invece andare sui nomi titolarissimi perché abbiamo visto che comunque ci possono essere utili per la copertura perlomeno ma anche quando magari non esplodono e dobbiamo stare attenti perché in terza fascia qualche possibile crack c'è quindi piuttosto che magari andare sulle scommesse quelle soprattutto non eccezionali possiamo magari prendere un po' di terza fascia di giocatori che possono portare magari la doppia cifra quindi attenzione a questo discorso ok? nelle scommesse andiamo o sui big o altrimenti andiamo nelle terza fascia attenzione che però il prossimo anno gli slot saranno strutturati in diverso modo per quanto riguarda le fasce e gli slot ok? vedremo se vi piacerà il nuovo metodo va bene? detto ciò voglio sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti cosa avete imparato da questa analisi anche sugli attaccati che tipo di attacco avete composto scrivetelo qua sotto nei commenti va bene? detto ciò un saluto da Carmi Special sono curioso di leggere tutti tutti i vostri commenti in maniera ovviamente educata dite la vostra io sono qui a studiare analizzare fare di tutto l'abbiamo fatto già durante tutta la stagione quanti videoanalisi abbiamo fatto durante tutto l'anno non 2-3 video tanto per visual ma analisi tutto l'anno questo è Carmi Special un abbraccio ciao